Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video, come vedete abbiamo 5 tin da aprire però non le apro tutte in un video solo perché mi secca, ho altro da fare quindi cominciamo con questa tin di Deoxys, come vedete sono due Deoxys, due Tundrus e un Lugia queste sono sempre quelle famose tin di Cargame con le bustine abbiamo Destini Futuri, Esploratori cominciamo da un Esploratori dell'Etreme, speriamo di sbustare meglio l'altra volta, anche se non era difficile visto che l'altra volta abbia trovato niente scurati, c'è una X mi so, forse qualcosa, e allora già è meglio l'altra volta la Vesta, vabbè non c'è la fiega niente, andiamo avanti cominciamo benissimo, cominciamo benissimo, super martello reverse se andiamo con una ex a box diciamo che non ci lamentiamo Silvio, Silvio lo voleva vediamo Destini Futuri vabbè già questa tin diciamo abbiamo sculato però Vincino, Energia Prisma, Chirio, Pansage, Grimmer, Stario, Litwick, Kubtio, Pampur reverse e Bronzong vabbè diciamo che comunque bene 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 esplosione magari un bel Virizion eh non sarebbe male glali glali bracciale argento l'edifossi dacca shermet poli moon adolf reverse e salamence polo mi mancava ottimo tarpali quindi niente ragazzi chiudiamo questo video ecco qua il nostro best pool diciamo che non è malaccio non è malaccio quindi ci vediamo nel prossimo video con l'apertura di un'altra di queste tin a presto grazie